ok ci dovrebbe essere, perfetto la luce così va bene ok ci dovrebbe essere, perfetto Ok ragazzi, vuole i miei, andiamo Non so cosa dobbiamo fare, non mi ricordo Un po' troppo Ok Questo un po' così Ora andiamo Ok, meglio, così il nano si vede meglio Abbiamo questi, questo non mi sembra giusto Facciamo questo Alla prossima no ok far dell'ho rimosso perché mi sembrava il caso e viaggia andiamo qua prima oh mio dio ok grazie stavolta ci proviamo stavolta siamo carchi stavolta non facciamo i figli di puttana ciao Alessia sei tu ovviamente ciao e buonasera mi andava di fare sta live quindi andiamo sono pronto monaca andiamo eh la pazzotta devo ancora impararla andiamo eeeh vedi impariamo devo sapere che devo sapere devo saltare il mio input è che sembra che faccio l'affondo ma non fa l'affondo eeeh ora facciamo la bella ma come si deve se non lo sono sicuro andiamo eh puttana tua madre la spazzata la spazzata che palle infatti sotto i età va bene va bene lo accetto e fanculo troia eh sbaglio sempre ah ovviamente e quando devo fare l'altra cosa non la faccio nooo non so come ho fatto accadere però va bene però va bene ho sbagliato anche t'altro eh ma tua madre no 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 Quante erbe di piene ne ho? Nessuna! No! Cosa voglia ha? Porco dio! Vabbè, tua madre allora. Eh ma, porco dio! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Oh ho! Troia! Ma, porco dio! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Ah, vanguolo! Non riesco a vederlo! Ah! Dall'alto! Poi io... Ho completo tutto allora. Allora, proviamo a fare bene le cose. come si deve. Dall'alto! Vatti sotto! Ahhhh! 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 Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhh! E' a fangu' lo sbaglio sempre E' a fangu' questa volta, me ha... Bene Ma porco dio Adesso che penso che dovrebbe fare la spazzata, fa l'affondo Ma la sei troia Ok E' prima fase fatta Cazzo Ma no E' quella, minchia, l'avevo trovata Puttana troia Troia di meta, succhia cazzi Ma porco dio Ma porco dio Quando non dovrebbe farmi quello, fa quello E' fangu' lo E' fangu' lo E' fangu' lo Beh, ci proviamo Ah puttana tua madre Ma addirittura Ciao, vabbè, ciao Un piacere E' così facile sto boss A pensarci Non ci vuole niente Solo io che sono stupido Porco dio Porco dio Porco dio Mi ho detto L'albanese che in me E' porca troia Troia Perfai Dai su Dai su Mi ho detto Uh, l'ho preso lo stesso No Come? Ma porco Dio Ma come? Vabbè, 5 cure, rimaniamo con 5 cure Eh, porco Dio Rimaniamo con 4 Ah Ci voleva, cazzo Tua madre Ah 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 No Ok, ho capito che devo riuscire a arrivare la prima qua Ah 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 No, terror, vabbè Vabbè No, grazie, vabbè No, grazie No, grazie No, grazie No, grazie No, grazie Mi stavo giocando male Vi facciamo No, grazie 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 Razie No, grazie No, grazie No, grazie No, grazie no ok si ma è cosmo dai ok ok va bene no 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 che fastidio tua madre puttana tua madre puttana dai su decisiva dai ma porco dio siamo già male ma porco dio no non oso nemmeno usarlo no questo è veramente colpito di merda vaffonti siamo qui da mezz'ora no Grazie a tutti. Ah, puttana tua madre. Ma sei certo, come è possibile che il tuo tracking cambia posizione? Eh sì, vabbè, ciao. Coglione. Ah, forse ho capito come capire quando devo saldare e quando no. 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 Ok. No. 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 non devo fare andare indietro con lui che fa terrore, porco dio ecco, vai di eh, ma tua madre tua madre, su che cazzo è l'inferno e anche tuo padre e anche tua nonna come, scusate? cos'è che mi impedisce proprio di giocare bene? dai lupo, dai lupo, dai lupo, dai lupo 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 ma porco dio nooo 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 non mi va bene non mi va bene non mi va bene punto eh, addirittura io ho fatto... aff começa la madre Perchè è, no, please. Ma bordo, per Dio. Perchè? Ma vaffanculo. Perchè? Grazie a tutti. 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 Non ce la faccio più. Ma sono io che sono stupido allora, veramente? Aspettate. Facciamo una cosa incredibile. Perché magari non sono serio io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Vaffanculo la troia di merda. Cazzo. No, eh. No. 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 Grazie a tutti. 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 Mi ha preso. Porco Dio. Grazie a tutti. Ma è tua madre. Grazie a tutti. Perchè? 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 ho finito le compresse non più le compresse non 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 come scusami come scusami come scusami come scusami perché? perché sono un coglione come scusami 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 Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Sono Grazie a tutti 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 Sì. 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 Ahah. Ce l'ho fatta. La mia prima motivazione è fulminiale. Vabbiamo quanti ocetti. Niente brother. Hai ma puttana. minchia cinquanta minchia come è aumentato il costo edo ti qua ma lui sarà la stessa cosa ma lui sarà la stessa 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 ma che bel premio la stessa io vorrei salire su ma vabbè non lo fa qua perché sono troia ma lui 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 erano quelli la che non potevo prendere ma lui ma lui ma lui ma io Nooo Eita Vediamo ancora Vediamo ancora Vediamo ancora Vediamo ancora Mamma mia Quattro fanno male Vediamo ancora Ma mia Poi come esco da? Come ce quei miei amici? no che la fai che ma è davvero davvero por che dia Grazie a tutti. Grazie a tutti. E via. Ok, allora. Oh, e beh, perfrotto ora, vaffanculo. Come prego? Oh, ma ora. 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 Tanto non abbiamo uno da perdere. Beh, più che altro abbiamo uno da perdere. metà di... Metà di... Oh, ma ora. 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 Oh. e' un'altra parte e' un'altra parte ma... ma... è vero mochi mochi alrazu mochi alrazu mochi alrazu postura il lupo sente che è stato preparato con settimili determinazione e il tanto da situazione emozioni tanto profonde vengono che carino tempo non io la life non vengono siamo lasciati o donna ok che cazzo faccio riposo ah si mi fai una cosa vedendo che ho un sacco di cose della carpa a 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 un Questa la voglio Ce l'abbiamo una La esche è davvero preziosa, le esche pelose come questa sono davvero speciali Il nome di Rata nel vaso è ossessionato dell'idea di diventare un maestro Quello che riceve le scaglie della carpa, diviene egli stesso simile una carpa Fido a te il... No No, non darò il suo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gentile di minuti. Quanto per... Oh... Vivo... Come si va? 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 Come si va... Come si va avventura... Come si va. E' communica? Ora, ora, sono state in un'acqua di sottotitoli. Perché questo? La porta di sottotitoli ha un'acqua importante, ma... ...e un'acqua di riuscita. Ora, 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 è un'acqua di sottotitoli. no 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 po madre putana no 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 avremo sconfiggere quel nemico no 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 Bene, il numero 5 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 Va bene, va bene Va bene, ok Oddio Bene, il numero 5 Oh yeah, bitch Bene, il numero 5 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 ok 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 Grazie. 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 Da ci sarà mai qua? Oh ma se lo compi? Bene bene. I soldi per mò. Non c'è nessuno. Dai ragazzi che siamo andati abbastanza bene Live decente Per una volta No Ok Sì capire mi sono Mi sono inietro Mi sono inietro Mi sono inietro No Scusi Voglio arrivare a questo qua dietro Poi dopo scappare Non so quante monete avevo ma credo che non ne avevo tante Oh, microfono Ah, addirittura Che carino Innotantissimi Non più Ah, va fangu Oh la la madre no no ok sa che di fonti di drago non vuoi chiedi sa che pulissimi sa che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Eccolo. Core. Ce d'ing giorno. C'è l' đểu. C'è l'ha pá'. Hotis. C'è lщо. J' равно. C'è l'haănhy due. Oh, no, questo mi sembrava Pondola C'è quello? Grazie a tutti. 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 Ok. 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 ok oh ooo 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 Grazie a tutti. 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 Ah... Grazie a tutti. Oh... 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 Perfetto. Oh... 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 Per me... Oh... 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 Oh...